Benvenuti a tutti e siamo qua finalmente per iniziare il terzo format nuovo del 2024 sul mio canale dopo Arca Consiglia, dopo Arca Uscite al Cinema, Arca Uscite su piattaforma. Abbiamo Disney+, Netflix e Prime Video. Vi dico nei primi dieci giorni del mese quali sono i film che secondo me sono più interessanti e che hanno un minimo di valore in più rispetto ad altri, perché ci sono un sacco di titoli, tipo per esempio, L'amore cieco, Novità Netflix, chi è? Quindi vi dico quelli un po' più interessanti. Prima di andare avanti vi invito a iscrivervi, a supportarmi, un'iscrizione, un like, a vedere i miei video che sono bellissimi e tantissimi contenuti. Ogni giorno c'è qualcosa per voi e se vi va abbonatevi qua sotto. Due caffè al mese non è tantissimo, mi supportate e mi spingete a dare il meglio di me. Quindi direi di incominciare subito con Disney+, che nei primi dieci giorni ci dà solo un prodotto, quindi ce la togliamo subito, con una serie piuttosto anche attesa, che è stata consigliata Spotlight, come sapete, ovvero questa sezione del mondo MCU, che non è importante per la macota, ma quindi per molti, malignamente, me compreso, è come dire, sono dei prodotti un po' così, un po' di bassa qualità. Ecco, Echo, che era una comprimaria della serie di Hokaino, e quindi si è fatto un focus su questo. Ci sarà Daredevil, ci sarà Kimping, se ne parla tanto, il fatto che non sia stata messa con episodi settimanali o in binge, ci fa capire che se ne vogliono liberare. Quindi, comunque, ci sarà curiosità dal 10 gennaio di vedere questa Echo. Andiamo prima a Netflix o Prime? Facciamo Netflix, dai. Netflix ci propone nei primi dieci giorni titoli, quattro titoli interessanti, tutto sommato. Per gli avanti degli anime, io non sono... sì, amo gli anime, ma non questo tipo. C'è la decima stagione di Bleach, che esce il primo gennaio. Per chi lo senta è stato, io non ne so niente, però io ve lo dico perché so che è un titolo che piace, quindi ve lo consiglio. Poi, un inganno di troppo, primo gennaio, che trovo interessante perché ho letto un po' quello che si dice, questa sinossi, è una sorta di thriller, perché questa protagonista cerca di superare il brutale omicidio del marito, ma quando installa un baby monitor per tenere d'occhio la figlia, resta scioccata nel vedere in casa un uomo che riconosce il marito che pensava fosse morto. E qua un bel thriller ozzo, quindi, serie, mini serie, secondo me sarà interessante, lo potrebbe essere, io la seguirò, la vedrò appena potrò, quindi questo inganno di troppo potrebbe essere una buona idea, se volete vedere qualcosa di diverso su Netflix. Forse, ancora più interessante, è The Brother Sun, che sarà anche qua una sorta di thriller ozzo, diciamo così, ma intanto c'è Michelle Yeoh, quella di Everything Everywhere che ha fatto dei bei film, è una brava attrice, ma si parla di mafia. Quando il capo di una potente triade taiwanese, è ucciso da un misterioso assassino, suo figlio maggiore, nonché leggendario o killer, va a Los Angeles per proteggere la madre, che è Michelle Yeoh. E qui ci sarà una vendetta, e quindi sarà una trama accattivante, almeno sembra così. Io direi che un'occhiata si può dare a una serie tv, che esce il 4 gennaio, non penso sarà lunghissima, quindi forse è bene darci un occhio. Il 4 esce sempre, un film che aspetto da tanto, e che non ho potuto vedere dal Festival di Venezia, ma l'edizione, La Società della Neve di Bayona, che è stato nominato nella shortlist degli Oscar per il miglior film internazionale. Sono molto curioso, l'aspetto da tanto perché a me piace Bayona, come regista. Questo dicono che sia un bel film, non so tantissimo, vediamo se, leggendo c'è qualche attore. Abbiamo che, basato su un disastro aereo delle Anne, del film è un adattamento di un romanzo, che documenta i racconti di 16 sopravvissuti allo schianto di questo aereo. Sembra interessante, molto interessante. Quanto dura? 144 minuti. Sembra bello tosto, bello interessante. Io lo aspetto, questo La Società della Neve, e spero che lo recuperiate anche voi. Quindi chiudere qua la parte di Netflix. E chiudiamo su Prime Video, dove abbiamo cinque titoli di film. Uno molto recente, gli altri alt, fra virgolette. Iniziamo da quello recente. Dai, primo gennaio, andiamo con ordine. Abbiamo Annie Hall, io ed Annie, di Woody Allen, per chi se lo fosse perso, o chi lo volesse rivedere, questo capolavoro del cinema. È su Prime Video. Poi, è interessantissimo, l'altra scelta per il primo gennaio, che trovo molto più interessante, perché è un po' di nicchia. Uomini e topi, tattuto da romanzo di Steinbeck, questo penso sia la versione del 92, stavo guardando, con John Malkovich, e Sherlyn Fenn, che è quella di Twin Peaks. Vi ricordate? Ci sono attori importanti, Joe Morton, il regista Gary Sinis, che è anche l'attore del Toon to Dawn, di Forrest Gump. Interessante, io non lo ricordo bene, lo recupererò, perché mi sembra intrigante. Poi adoro Uomini e topi, come il romanzo. È bellissimo, è un capolavoro assoluto della letteratura, quindi recuperatelo, come farò anch'io. Poi, I Magnifici 7, penso, si faccia riferimento al film originale. In realtà, penso di aver cambiato idea, perché ce n'è uno del 2016 che è forse più appetibile per il pubblico, c'è Chris Pratt, Ethan Hawke, Dandel Washington, Vincent Donofrio, Ale Bennett, secondo me è questo. Se no, c'è quello del 52, ma dubito fortemente che sarà quello del 52. Questo non l'ho visto, il western non è il mio genere, ma con un cast del genere. Un'occhiatina, prima o poi la si dà, ecco. Chi è il regista? Per capirci. Ah, Anthony Fuqua, quello dell'ultimo James, Bond, quindi penso sia un film valido, comunque. Primo gennaio, anche qua, non viene specificato sui siti, poi lo vedremo, ma io credo che sia quello originale di Schwarzschi, di Verhoeven, Total Recall, atto di forza. Questo è cult, un cult assoluto del cinema action, ma anche dei nostri giorni, da recuperare. Immediatamente, se non l'avete mai fatto, anche solo per la scena dell'aeroporto, che ha visto, sa, Schwarzschi, maestoso, maestoso. E chiudiamo con un film recente, dell'anno scorso, credo, o di due anni fa, Bullet Train, film che non mi è piaciuto affatto, quando lo vidi, l'ho trovato una rivisitazione tarantiniana, fra mezzo, mezzo John Wick, mezzo tutto, un po' una copia dei film action all'orientale, che però è un po' americanizzata, non, non mi ha convinto minimamente, è piaciuto a tanti per il suo essere tamarro, cioè, il tono è prima drammatico, poi vuole essere comico, poi action, poi epico, poi smorso la tensione, colpi di scena, a non finire, perché, di che cosa narra? Abbiamo questo treno, Shinkansen, in Giappone, c'è una più veloce del mondo, dove ci sono vari personaggi che devono recuperare una certa valigetta, guardate un po' che riferimenti, e quindi, ci sono spie, contro spie, eccetera, boss, mafiosi, sgherri, c'è tutto, ovviamente si combatte, e, forte, mazzate, forti, quindi, chiudiamo qua, vi ho fatto la lista dei film per me più interessanti di questa settimana, di questi dieci giorni sulle tre piattaforme più usate, fatemi sapere cosa vedrete e cosa no, e vi invito di nuovo a iscrivervi, a supportarmi, a mettere un like, a interagire con me, perché devo sentire il vostro supporto, ciao. a notte la lista, a me, a me, a mu,